Diciamo, 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 qualche cosina, buonasera, buonasera, che bello essere tornato qui, è una cosa spettacolare, dice noi donne parliamo troppo? Ci hanno fatto una canzone, festival, è una canzone, quello che le donne non dicono, ci hanno fatto una canzone, pensa se facevano quello che le donne dicono! No ma però non è che io, attenzione, 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 io sono a favore, io amo le donne, sono le mie muse ispiratrici, grazie a loro che esiste il mondo, questo lo dirò, sempre però il discorso del parlare va detto, va detto, anche nelle piccole discussioni, dai! Cioè quando un uomo litiga con una donna, gli dice, via qua che te ne devo di quattro, quattro! Lei invece gli dice, vieni, 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 vieni qua, vieni, mettiti seduto che ti devo parlare! E' finita! Cioè tu non lo sai, sai quando inizia, ma non sai quando smette, assolutamente! Che poi uno dice, vabbè ma, tu interrompila, chi interrompila, chi c'è mai riuscito? Voi conoscete un essere umano che ha mai interrotto una donna? Quando è lei che inizia a parlare? Mai! Mai nessuno, non te fa entrare, non c'ha pause! E' una cosa tremenda, quindi è meglio stare molto attenti a queste cose! Cioè, signori, ma non è che io adesso voglio essere, diciamo, così cattivo, accanito su queste cose, però guardiamo una cosa proprio in un dettaglio. Queste si incontrano proprio per parlare. Perché non ci vediamo domani e ci facciamo una bella chiacchierata? Cioè, sta parola in bocca a un uomo non si è mai sentita. Cioè, tu chiami a uno, domani ti chiamo se fanno una chiacchierata, l'uomo ti rispone, lascia, non mi chiamami, non mi chiamami, lasciami perdere! Cene con amici, cene con amici a casa, invidi amici, fai le cene, dopo cena, magari, ecco, chi vuole andare fuori, magari, io ho un brutto vizio, fumo, ho un brutto vizio, vado fuori a fumare una sigaretta, magari con qualche amico, le loro compagne rispettive rimangono al tavolo e le vedi tutte, due, tre, quattro, quantesse sono che parlano, parlano, fa tutto il tempo, loro parlano. Noi fuori, al balcone o in giardino, siamo tre, uno, due, tre, stiamo così. Stanno lì l'altri, eh? Il più scaltro, il più scaltro, magari fa. Mi sa che domani piove. Quello a fianco, il chiacchierone del gruppo. Basta, si sono detti tutto, poi tu rientri, loro vanno via, saluti tutti, ti ritrovi con la tua compagna e gli dici, ho visto che hai parlato tutto il tempo, che vi siete dette? Niente, non ci sono dette niente, non è possibile. Ma oddio, ma che la donna parla, non è che ve lo devo dire io, ho una scoperta, no, 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 autori, libri, film, in questo caso, ecco, un programma come questo, canzoni, canzoni, ci hanno scritto canzoni, una tra le più famose intitolata, parole, 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 che tutti sappiamo che è di Mina, no, è de Mina e Alberto Lupo, solo che nessuno ricorda la presenza di quest'uomo, e questo ci ha pure provato sulla canzone, ci ha provato, perché lei faceva che cosa sei, che cosa sei, che cosa sei, arrivava lui, io sono quello che non cambi mai, non cambi mai, ma volevo dirti caramelle, non fa parlare per tutta la canzone, zitto, signori, nessuno ricorda Alberto Lupo, per assurdo, Paola, è più famoso Lupo Alberto, grazie. Antonio Catalano, però dai, quante cose carine anche diciamo, dai, no, sono bellissime, quanti bei complimenti vi facciamo, ma che scherziamo, ma che scherziamo, ma quante serate abbiamo fatto anche insieme, mamma, Cosa, la peusta, la peúa, è molto importante, non ci stai effetto,